Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR, io sono Federica e questo è un nuovo video ASMR rilassante, pensato per farvi addormentare, grazie per aver scelto questo video, ho pensato di raggruppare un po' di richieste che mi sono state fatte ultimamente, il clima non è dei migliori qui in Italia e abbiamo molto bisogno di tranquillizzarci tutti quanti, immagino anche tu, tu che stai guardando questo video in questo momento e magari sei a casa e non puoi uscire, proprio come la maggior parte di noi, bene, durante questo video ascolterei la mia voce in whispering e in audible e ci sarà un po' di down clicking, un po' di touching camera, questo trigger visivo che adoro e che trovo molto 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 rilassante e poi un un po' di camera brushing con questo pennello, un altro visual trigger, ti consiglio come al solito di indossare le cuffie per ascoltare il video, di mettere un bel mi piace se questa idea ti piace e soprattutto di iscriverti al canale nel caso non l'avessi già fatto attivando la campanella per non perdere i prossimi video rilassanti e adesso iniziamo! come vedi la luce in questo video è piuttosto soffusa e l'atmosfera è molto molto tranquilla e in questo video ho scelto un close up proprio come mi è stato richiesto e il mio scopo oggi è quello di farti ritrovare la positività nel caso e l'avessi persa capisco che in questo momento sia molto molto difficile mantenere l'equilibrio e la calma ma è è fondamentale essere pronti a reagire nel miglior modo possibile a questa emergenza ovviamente potrai riguardare il video anche in futuro ogni volta che e ci sarà una situazione in cui è necessario restare lucidi e tranquilli io so che tu puoi farcela puoi farcela? so che affronterai al meglio questa situazione che è solo passeggera ricordala è solo passeggera è solo passeggera oggi oggi sicuramente avrai bisogno di dormire un po' come al solito come al solito per recuperare le tue energie e sono sicura che ci riuscirai in pochissimi minuti grazie a questo video grazie a questo video devi solo allontanare dalla tua mente tutti 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 i pensieri lontani lasciali andare via lasciali scivolare lontano lasciali scivolare lontano le tue le tue la tue le tue le tue le tue le tue le temerne pensiare al palazzo maciagola rotta della rotta maciagola rotta della grunciglia di rotta lascia spazio solo ai colori all'azzurro al viola all'indaco i colori aggrezzano la tua mente che è sempre più vuota più libera e leggera preferito più libera più leggera più libera e più leggera a ogni tocco del pennello senti che va via un pensiero negativo e che il colore si fa spazio procurandoti serenità e stampando sul tuo bellissimo volto un sorriso perfetto 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 tutto andrà benissimo ne sono sicura non hai alcun che ti preoccuparti tutti i problemi si risolveranno dovrai solo pensarci domani non stasera stasera ci sono qui io con te e per te a tenerti compagnia te veglierò sul tuo son dormi adesso dormi i tuoi occhi si chiudono lentamente 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 senti le palpebre farsi pesanti e piano piano ti lasci andare ti lasci andare piano piano ti lasci andare buonanotte 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 a domani la campanella sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della feri crew se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte per la feri per la feri per la feri